2-6, ecco, terzo piano, estrazione. Attenzione, il punto d'ingresso principale è sgombro, ma non per molto. Ricevoso, arrivo tra tre minuti. 2-6, chiudo. Tre minuti. Fra tre minuti la mia gente avrà già fatto irruzione, verrete uccisi tutti quanti. Ho scelto di catturarti vivo, ma posso sempre cambiare idea. Avete sbagliato persona. Menti. Digli cosa hai fatto. Non abbiamo rubato il gas. Chi allora? Qualcuno molto pericoloso. E dov'è? Mi piacerebbe saperlo. Il macellaio è lì fuori. Bruceranno la città, se devono. Puoi salvarti, figlia mia. Unisciti a noi. Non rivolgerle la parola. Ehi! Andiamoci piano, va bene? Io non sono tua figlia, vecchio. Io guido soldati, tu assassini. Ma siamo tutti assassini qui, no? Sono entrati. Dobbiamo muoverci, ora! 3-1-2-6, ingaggio avvenuto. Portiamo al sicuro il vino. Ok, 3-1. Bravo in posizione. Pronti all'evacuazione. 30 secondi. Recevuto, 30 secondi. Gruppo dei gnoti in movimento al cancello principale. Sparano! RPG! Mettica! Tutto ok? Sì, sì. Sto bene. Ecco 3-1, estrazione principale fallita. Siamo sul tetto. Ricevuto. Che si fa, capitano? C'è una camera di sicurezza nel seminterrato. Dirigetevi lì. Vi seguiamo. Ricevuto. Ci muoviamo. Andiamo. Aggiungiamo la camera di sicurezza per primo. E i civili, signore? Alcatala vuole il lupo. E anche noi. Bene, sei qui. Cinque minuti avranno finito. Come posso aiutarti? Prova delle armi e barrica la porta. Siete la squadra d'estrazione. Non per voi. Oh, apri la porta. Dopo chiudi. Mizzicano qua. 0-6 qui, ecco 3-1. Il lupo è al sicuro. Nella camera di sicurezza del seminterrato. Il macellaio è all'esterno. All'esterno. Sì, lo vedo. Stiamo facendo irruzione. Ci serve un altro punto di estrazione. merda. Dobbiamo ingaggiarli, signore. Negativo. Salvarlo, sergente. Sobito. Facci il lupo. La pietà è per i debiti. Guardate quel camion. Ehi, lo prenderemo. Contacelo. 3-1, veicolo nemico in arrivo. Stato dell'estruzione. Vengono lì. ricevuto. Cogliamo il lupo. Sportatece. Dov'è il lupo? Non è colpevo. Mi prego. Duono nel ferimetro. Cogl grandma. Gol! Occhio a nordovic Libero Andiamo nel semi interrato, ok? Va avanti È chiusa È su io Ok, dai 3-1 Ricevuto Fate attenzione Ci sono ufili all'esterno della camera di sicurezza 3-1, siamo qui Farah Lotti ancora per il bene? Sempre, capitano L'ambasciatore è bloccato dentro, signore Tenetelo in linea Ci serve per andarcene Adir, grazie per l'aiuto Niente, signore Omar Suleman Ci conosciamo Quando eri dalla nostra parte Il lupo era un ribello Lo sono ancora, fratello Gli uomini del macellaio sono vicini all'ambasciatore Ok Kyle, le telecamere Porta in salvo l'ambasciatore La sua tessera apre la porta posteriore Voi, con me È toccamata Può sentirmi, ambasciatore? Chiudo la porta Nasconditi Staci Ambasciatore Chi è messo? Merda Capitano, l'ambasciatore è morto Ma posso ascoltare lì la sua assistente Fallo Pronto? Ehi, riesci a sentirmi? Ehi Sono il sergente Kyle Garrick Staci Staci Davidson Fa esattamente come ti dico E ti salveremo Ok Allora, intanto la farai andare qua Prendi la tessera dell'ambasciatore E vai alla porta Ok Ok Ho la tessera E vai Questo? Dai Vai a destra C'è un armadietto In fondo al corridoio C'è un carrello Vicino alla porta Staci Va alla porta Ok Vado Indietro Indietro Dov'è? Dov'è il lupo? Che succede? Ma quel macellaio del cazzo Non lo so Non mentire Il lupo è qui Dimmi dove Sono solo un analista Qualcun altro Qualcun altro Non ci ritroveranno Non ho qualcun altro Io ho te Tu Tu non sei Del mio paese Questa non è la tua terra C'è un carrello Vicino agli scaffali Va Non fermo Ti prego Ti piacerebbe Se venissi nel tuo paese E prendessi la tua gente No Ma Non posso aiutarmi Aiutami Nasconditi vicino a quel corpo Peccio per te Lo stanno uccidendo Nasconditi vicino a quel carrello Dentro No Aiutami ti prego L'altro lato della scrivania Va Dentro Ok Va al corridoio Ora Prosegui lungo il corridoio Nasconditi vicino alla porta Ora Oddio Adam No No Stacy Il telefono Stacy No Non vuoi darti via Merda Stacy Lascialo Mi dispiace Adam Non urlare Stacy Non muoverti Voglio tornare a casa Anch'io Ti ci porteremo Stacy Sei quasi fuori Andato Spostati verso il cubicolo Il prossimo cubicolo Muoviti Cazzo Puoi raggiungere la scrivania Sto andando Torna indietro L'altro cubicolo Va Adesso Marta 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 Continua Il prossimo Sergente Garrick Va all'altro cubicolo Ok Vado Vicino alla sedia C'è una guardia che blocca l'uscita Devi distrarla Cosa devo fare? Nasconditi vicino alla stampante grande Al distruggi documenti Bene Accendi Lato opposto Va all'uscita Corri Yes Oh 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 Tiratela fuori Ce l'abbiamo Sargente Raduniamoci al parcheggio Ricevuto A tutte le unità L'ambasciata è caduta I Marine stanno preparando un punto d'incontro alla residenza dell'ambasciatore Parla il capitano Fry S.A.S. Veniamo verso di voi Gary Andiamo via Ricevuto A tir Tieni d'occhio a su Capitano Qual è il piano? Raggiungere i Marine al complesso sud Dov'è il complesso? Vicino Dopo il vicolo oltre da stare Andiamo D'accordo Gary Apri Vai Apri la porta Si apri la porta Eh come dobbiamo aprire? Scusa Facci entrare Gary Grazie sergente Mi hai salvato la vita Questa tessera può salvarci Ok Preparatevi allo scopo Sono qui Dietro dietro In movimento Maledetto Ecco 3-1 potete procedere Ricevuto Ricevuto Arriviamo Attenti a ogni movimento Via Qui non è sicuro Non attaccherò Non attaccherò Non attaccherò Non è senza rube Ci hanno scoperto Riposizioniamoci Subito Ecco il complesso Garic Garic Usa la tessera Entriamo Qui bravo sei S.A.S. Siamo all'esterno Non pensavo ce l'avreste fatta Serve una stanza sicura per un prigioniero Sì signore Stanza sicura nel residence Seguitemi Andrà bene Controllalo Occhio Torneremo per lui Non mi troverai fratello Ma ci incontreremo di nuovo Roger Parla 06 Mi serve supporto aereo immediato Negativo 06 Non posso rischiare un altro velivolo Cazzo Cazzo Kate Mandami qualcosa Dobbiamo affrontare tutta la città L'unico drone a portata deve rifornirsi Non può volare a lungo Mandalo qui e basta 06 Chiudo Alex a dire A norma Coprite quel tetto Kyle farà con me Ricevuto capitano Ok Allora di là I marina hanno l'ambasciata sotto controllo Niente in vista signore Torneranno Dalla parte opposta Come lo sai? È quello che farei io Ha ragione Riposizionatevi sul tetto Subito Adelgente Prendi un fucile di precisione dalla cassa dietro di noi Strano che devo farlo sempre io Eeeh Visuale su quel bar oltre il campo Usa lo zoom Voglio una visuale su quel bar No 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 Di fronte Distanzione Ci vediamo Altri ignoti Sì Parte opposta del campo Per mostrare Combattenti Sono qui per noi Vengono verso di noi Merda Non li vedo più Alex Tutto calmo Un momento Vedo del movimento nel campo Ore undici Dove? Negativo È solo il vento Tenete duro Si osservano capitano Un'altra parola e ti spedisco lì Agli ordini Mirano alle luci Pronti all'ingaggio? Si legge Occhi aperti Lanciate un bengala Li sorprenderemo Grazie alla luce Vai con l'illuminante Fai luce per noi Kyle Ah vedi Sergente Spara un bengala dal mortaio sul tetto Fuoco alle polveri Porti vederemo Eccoli In fondo del campo Fuoco 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 Gotta beane Fuoco allo Armen Posso confermere il campo Fuoco ai brazi Questa è oltre Fuoco ai brazi Fuoco al seco Fuoco al seco Merda, tutto ok? Fuo con le polveri. Forza puttana! Presa il perimetro! Forza puttana! Forza puttana! Sto ricaricando! Andatevene a quel paese Non è finita, ne arriveranno altri Rapporto sulle munizioni Sto finendo, sono circa a metà Quasi finite Conservate i colpi, non sprecateli Qua ne arrivano ancora, tal degma Due camioni in movimento a sud all'estremità del campo Ricevuto Probabilmente se la stanno dando a gambe Cambiano posizione Giù! Attenzione! Scorri l'amico! Suova terra, dobbiamo aiutarla! Lascialo! Chiude il tetto! Servare la sala! Subito! Ehi! Sì! Scorri l'amico! Sì! 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 Mi mette che... Sì! 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 città ragazzi città non c'è una arma ma sono non città guarda chi è in più bambino città a città spesso città No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ciao, Mara. Oh, no.